Lo scompenso cardiaco rappresenta la principale causa di ospedalizzazione in Italia dopo il parto e la prima causa di ricovero per malattie cardiovascolari. La struttura di cardiologia universitaria del Policlinico Reuniti di Foggia aderisce alla giornata per la prevenzione dello scompenso cardiaco. E nella giornata di mercoledì 30 giugno i cittadini potranno usufruire di un servizio di consulenza telefonico al numero 0881736144 dalle 9.30 alle 12.30 con risposte dello specialista cardiologo a domande sulla prevenzione dello scompenso cardiaco sui centri di riferimento locali e sulle nuove terapie. Lo scompenso cardiaco è una priorità a livello nazionale e a livello locale nella gestione. Quando immaginiamo un paziente cardiopatico è proprio il paziente scompensato che dobbiamo immaginare. Quest'anno in conseguenza delle limitazioni dovute alla pandemia purtroppo ci siamo limitati a una serie di iniziative di sensibilizzazione per cui prevediamo la possibilità per chi vuole di telefonare a un numero a cui risponderà lo specialista cardiologo. Risponderà il dottor Michele Correale responsabile dell'ambulatorio scompenso che è uno dei massimi esperti a livello locale e nazionale dello scompenso cardiaco e dello scompenso cardiaco destro in particolare. Che tipo di conoscenza e informazione c'è nella comunità? L'insufficienza cardiaca è una malattia subdola che si presenta con sintomi subdoli, astenia, affaticabilità. Non è come l'infarto in cui abbiamo un forte dolore che spaventa il paziente e gli fa raggiungere subito il pronto soccorso, chiamare il 118. Nello scompenso cardiaco è necessario conoscere i sintomi e capire che possono essere sintomi di origine cardiologica. Per fortuna le cure sono numerose. Lo scompenso cardiaco è uno dei settori in cui si sono avuti i maggiori progressi nel campo della terapia sia medica che non medica e quindi è necessario avvicinare i pazienti a queste possibilità terapeutiche perché le possibilità di cura sono molte.